Altro video con la speranza di trovare ovviamente qualche altro rettile invece è andata male guardate cosa succede nel deserto, maltempo, lampi, fulmini, ecco questi sono esseri che popolano i beduini diciamo che vivono qui e se ne vedono anche molti, sono beduini giovani entomologi e poi il beduino battiston che sta in fondo lì vedete che le dune si stanno formando e fra poco battiston sarà sommerso dalla sabbia, sarà praticamente una buca coperta di sabbia e in fondo lontanissimo i lampi e anche il nostro professore Rida che si è allontanato ma adesso tornerà di corsa perché fra poco vi giù il diluvio, bisogna riuscire a che uscire dal deserto, non so in che condizioni troveremo la strada qui in mezzo al deserto ma chiaro che saranno due veicoli, quattro notte motrici dentro l'acqua di deserto diventa anche una strada di dune, una natura, andiamo a vedere questa scena di vento che porta via tutta qualsiasi cosa si tira fuori, si riempie di sabbia qualche animaletto strano è uscito con l'alba di insetto o qualcosa che non vedevamo magari di giorno ecco i fulmini, si sta scatenando ovviamente il diluvio, cose a cui siamo abituati anche a casa nostra ma qui è tutta un'altra scenografia, non sappiamo proprio cosa succederà e qui il deserto cambia forma adesso con questo vento, questa tempesta comunque anch'io da peduino, giovane etomologo, vi saluto e speriamo di vederci alla prossima perché a questo punto dobbiamo uscire da questa situazione e tornare alla sede del parco